Sessore Viola, questa mattina conferenza stampa qui allo Stadio Angelini per presentare una serie di iniziative che coinvolgeranno Comune di Chieti e Società Calcistica, visto che domenica inizierà il campionato. Certamente sì, noi come amministrazione comunale di Chieti staremo molto vicini alla Chieti Calcio perché ci teniamo che questa società, che questa squadra che rappresenta i colori della nostra città possa fare bene nel prossimo campionato. Parleremo di alcune iniziative sia rivolte ai tifosi per cercare sempre la domenica di avere il maggior numero di tifosi e sostenere la squadra e sia in termini di iniziative collaterali. Uno stadio come quello di Chieti evidentemente deve essere una struttura polifunzionale e quindi magari perché no ospitare anche eventi di natura che vanno oltre il calcio. Tra gli obiettivi ci sarebbe anche quello di affidare la gestione diretta dello Stadio Angelini alla società? Sì, noi vorremmo affidare la gestione dello Stadio alla società e vi compreso comunque tutte le società di atletica che usufruiscono di questo stadio. Quindi creare un pool di società a capo certamente la Chieti Calcio che possano gestire la struttura.